buongiorno e benvenuti allo stand cnp alla ferra ispo di monaco 2018 oggi ho il piacere di presentarvi il nostro modello della linea trekking arietis arietis rappresenta l'interpretazione secondo lo stile cmp dello scarpone tradizionale da trek ha una tomaia realizzata in pelle scamosciata con una flex zone in poliestere per una maggiore articolazione della zona della caviglia e un collarino morbido imbottito con della mesh 3d per una maggiore sensazione di comfort arietis è dotato della nostra membrana impermeabile traspirante clima prote che quindi protegge dalle avversità climatiche dalla pioggia e dall'acqua in generale due elementi in gomma uno nella parte frontale un puntalino in gomma per la protezione delle dita contro gli impatti con le rocce e uno posteriore una tallonetta in gomma per dare stabilità alla caviglia alla parte posteriore durante la rullata l'intersuola è realizzata in eva tranciata neva microporosa a bidensità per garantire il giusto livello di ammortizzazione di assorbimento degli urti alla quale abbiamo aggiunto una suola vibram abbiamo scelto il modello di vibram chiamato savo che grazie alle sue ampie aree d'appoggio garantisce il grip perfetto sulle superfici rocciose e grazie ai tasselli vibram multi traction garantisce allo stesso tempo la trazione necessaria sui terreni più difficili all'interno di questo modello abbiamo inserito un particolare una particolare soletta realizzata con un nuovo materiale chiamato ai poli è una sorta di schiuma a base poliuretanica che grazie alla sua particolare struttura composta da milioni di micro fori d'aria garantisce oltre a leggerezza e traspirabilità un maggiore assorbimento degli urti una maggiore ammortizzazione maggiore una migliore gestione dell'umidità all'interno della scarpa e inoltre ha una naturale funzione antibatterica questo modello è disponibile in cinque colori da uomo e quattro colori da donna tutti con dei dettagli di colore in contrasto per renderla più sportiva e accattivante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti